Gentili telespettatori, buona giornata. Adesso tutti contro meloni, ma era una cosa come si dice telefonata, per quanto riguarda il blocco navale, che è una parola ingannevole perché in realtà il blocco navale sì c'è, ma detto così sembra chissà che cosa. In realtà questo tipo di soluzione, che potrebbe essere una soluzione radicale, nel senso alla radice del problema, è stato già fatto dalla sinistra da Romano Prodi nel 1997, se non sbaglio, nel canale d'Otranto. La sinistra che oggi se la prende con la meloni per l'attuazione della proposta di blocco per fermare i migranti, era stata già adottata, non pensata, ma proprio adottato il blocco navale da Prodi, che aveva fatto un accordo con i paesi dell'ex Jugoslavia, dove in accordo appunto Italia e loro si fermavano le partenze. Il blocco navale è una cosa che non è fatta unilateralmente, ma è fatta in accordo tra Italia e Libia, Italia e altri paesi, non so, Marocco, eccetera, eccetera. Ecco, ma il primo che l'ha fatto è proprio Romano Prodi tanto tempo fa, e alla sinistra andava benissimo. Così la meloni parla della solita ipocrisia della sinistra, perché la proposta di Giorgia Meloni di organizzare un blocco navale per frenare l'immigrazione illegale sulle coste italiane meridionali, probabilmente alla sinistra ha la memoria molto corta e ha scordato quando fu fatto dal governo Prodi, con il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Su Twitter la proposta di blocco navale avanzata da Meloni è oggetto di feroci critiche, tanto che l'argomento è uno dei trend topic di giornata. È una sorta di buonismo spicciolo che fa finta di non avere memoria, ma la sinistra la memoria ce l'ha, è anche buona, ma oggi non ricordano che proprio non è una novità per il nostro paese e non è una novità per l'Unione Europea. La proposta di blocco navale europeo è del 2017. Quindi attenzione che il blocco navale fu proprio proposto anche dopo Romano Prodi. Romano Prodi nel 1997, ma dopo 20 anni dal blocco navale fatto in Jugoslavia con un accordo fra noi e quel paese, l'aveva fatto proprio Romano Prodi, c'è una proposta di blocco navale europeo del 2017, perché in Europa non è che fanno tutto questo teatro per un blocco navale, in Europa sono tutti d'accordo, anche a sinistra erano d'accordo, solo che una cosa se lo fa un presidente del consiglio di sinistra, nessuno dice niente, anzi. Guai, se lo dice un candidato premier di destra, se dice facciamo il blocco navale, allora vengono fuori con tutte delle teorie molto, ma molto curiose. Ho letto anch'io dei messaggi dove la gente ipotizza che chissà la Meloni cosa voglia fare con questo blocco navale, tutte panzanate, inventate completamente, totalmente, senza nessuna base di, nessun fondamento. Ecco, quello che adesso raccontano molti sul blocco navale proposto dalla Meloni, quello che raccontano sono completamente delle cose campate per aria. Non ha, non è capo, ne coda con dei tratti proprio di evidenti balle, evidenti balle. Ecco, e così ben cinque anni fa, quando c'era il governo di Paolo Gentiloni, quello che cantava Bella Ciao in Europa, l'Unione Europea voleva proprio il blocco navale in Libia. Questo era il titolo dell'unità del 26 gennaio 2017, per sintetizzare le proposte della Commissione Europea per fermare i flussi migratori. Il blocco navale europeo, in accordo con le autorità del Nordafrica, che da anni propone Fratelli d'Italia, altro non è che l'attuazione di quanto proposto dall'Unione Europea già nel 2017, ha scritto Giorgia Meloni su Facebook, spiegando in maniera molto semplice quello che dai sinistra faticano a capire, o che meglio, fanno finta di non capire. E aggiunge, chi oggi blatera che il blocco navale non si può fare perché è un atto di guerra, dimostra la sua totale ignoranza sul tema. Immigrazione ha ragione. Quando Giorgia Meloni ha ragione bisogna dire che ha ragione. Ecco, non si può dire che quando ha ragione, ha ragione. Tanto più che nel 1997 il governo di Romano Prodi attuò un vero e proprio blocco navale nell'Adriatico contro i flussi migratori dall'Albania. In cabina di regia sedevano lo stesso Romano Prodi, il ministro degli esteri Lambertodini e il ministro della difesa Beniamino Andreatta. Era il 19 marzo del 1997 e l'Italia approvò il decreto per la regolamentazione dei rispingimenti nel canale d'Otranto. In più, in quello stesso anno, l'Italia strinse un accordo con l'Albania per autorizzare le motovedette italiane ai pattugliamenti nelle acque territoriali albanesi. Ufficialmente venne presentato come un pattugliamento per invitare i barconi a cambiare rotta. Di fatto era un vero e proprio blocco navale strutturato con tre fasce di navi. La prima fascia di navi della Marina Militare Albanese, la seconda utilizzava navi d'altura, quindi navi che possono operare lontano dalle coste, quindi la prima operava davanti alle coste, la seconda navi d'altura, la terza impiegava imbarcazioni ad attuare i rispingimenti per quelle imbarcazioni che riuscivano a penetrare sullo schieramento delle due marine militari, quella albanese e la squadra navale italiana. Ecco, pertanto adesso andremo con questo blocco navale. Ne sentiremo, vedrete i dibattiti in televisione dove diranno delle cose che noi umani non avremmo mai sentito prima, ma io in questo video ve lo dico chiaramente. Sicuramente il blocco navale è stato già fatto dall'Italia nel 1997 e nel 2017 l'Europa lo ha proposto per attuarlo con le coste, con la costa libica, quindi è un qualcosa che ha già fatto la sinistra e nessuno ha detto niente, e ha proposto l'Unione Europea. E non mi spiego perché dopo il 2017, visto che è arrivato il governo Giuseppi I con Salvini e Di Maio, i due vicepremier, perché non abbiano preso la palla al balzo al posto che fare i decreti sicurezza, perché non hanno preso questa idea dell'anno precedente, dell'anno precedente, del 2017, dell'Unione Europea. Misteri della navigazione. Arrivederci a tutti e grazie.